Il giovane è mortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre intento a comprare proprio l'accendino che lo incastrerà il 21enne Macedone con precedenti che è finito in manette la notte di Pasqua per il furto d'una tabaccheria in via Trasimeno. Si trova proprio davanti all'esercizio commerciale che una manciata di minuti prima aveva svaleggiato e dove era tornato come se nulla fosse a comprare un accendino. Col cappuccetto però avuto scoperto col sacco, il sacco l'ha lasciato a 10 metri di distanza. Ma nel frattempo erano stati chiamati i carabinieri dal proprietario dell'esercizio commerciale che lo hanno arrestato per furto aggravato in concorso. Le stesse telecamere avevano immortalato il colpo messo a segno dal giovane assieme ad altri due banditi nella notte tra domenica e lunedì. Nelle immagini si vedono i malviventi prima a forzare la stracinesca e poi introdursi all'interno della tabaccheria passando attraverso una porta provvisoria montata dopo il furto subito dalla stessa tabaccheria alcuni giorni prima. Lo stesso esercizio commerciale era in stato infatti già preso di mira lo scorso venerdì probabilmente dagli stessi giovani. Due colpi dunque messi a segno a pochissimi giorni di distanza è tangibile l'esasperazione del proprietario della tabaccheria. La notte ti svegli un attimo guardi il cellulare con la paura della chiamata non ridormi per ore, ti rialzi, io sono un fumatore, vado a fumare, poi non ritorni a letto. Stanotte ho quasi l'intenzione di dormire qui perché sono senza porta e purtroppo ci vuole qualche giorno per rifarla perché è una porta in vetro temperato, si vive malissimo.